E qui l'ho imparato con loro, ti ricordi? Me lo ricordo sì Come va? Bene, lei come va? Bene Che dice? No, che dice lei? Piano piano Questa è il problema che c'è stato? Hanno riaperto Piano aperto, il problema è ieri di prima Stanno lavorando, vedo Hai ripreso un pochino il flusso dei clienti? In questi giorni ce n'è stato poco Abbiamo cominciato da stamattina un pochino di più Però vedo che la parte invernale ve l'hanno portata Non possiamo lamentarti, anzi Noi diciamo sempre ringraziamo Dio Un pochino di lavoro c'è E andiamo avanti tutti quanti Perché poi sono tanti qui a lavorare Lo so, me lo ricordo, me l'hai detto E vabbè Bene, sono contenta Buon lavoro, buona ripresa